Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con la prima domanda e come sempre iniziamo con una domanda a testa. Grazie a tutti. Buongiorno mister, Edoardo Sidi di Juventus TV. Che atteggiamento dovrà avere domani la Juve per ripetere quanto di buono fatto con la Lazio e in generale prolungare questo periodo comunque molto positivo? Grazie. Cosa dovremmo fare? Innanzitutto credo che in questo momento qui bisogna alzare le antenne perché c'è troppa eforia in giro e questo da una parte è bello, dall'altra ci toglie energia e soprattutto ci toglie attenzione. Siamo solamente alla quinta partita di campionato domani, tra l'altro il Sassuolo negli ultimi anni a parte, se non sbaglio, c'è stata una volta che abbiamo vinto 3-0, credo, con tripletta di Dybala e sono sempre state partite combattute. Loro vengono da una sconfitta, pesante a Frosinoni dopo che erano stati in vantaggio e quindi domani troveremo un ambiente, una squadra sicuramente tosta con una voglia di grande rivalza. E quindi per far questo, per far risultato domani bisogna fare una partita di grande attenzione, di grande fisicità, di grande tecnica e perché venire via da domani da Sassuolo con il risultato sarebbe molto importante. Un giorno, mister Giovene del Benesse Sport Italia, considerato che in settimana Vlaovic e Chiesa hanno fatto lavori personalizzati, le chiedo se sono regolarmente a disposizione e se pensa di andare avanti con loro dal primo minuto. Grazie. Hanno saltato un giorno dove hanno fatto differenziato, perché Vlaovic ha un po' di mal di schiena e Federico aveva un po' il flessore, è un pochino affaticato, ha lavorato il martedì, il mercoledì invece aveva saltato. Però sono a completa disposizione. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport, a questo proposito le chiedo, visto che con l'Empoli e con la Lazio abbiamo visto di fatto gli stessi uomini, se è il caso appunto domani di proseguire su questa falsariga e poi eventualmente fare rotazioni con il Lecce, visto che c'è subito poi martedì un'altra partita. Martedì abbiamo una partita a distanza di tre giorni, cosa che quest'anno capiterà solo quando ci sarà l'infrasettimanale, quando ci sarà la Coppa Italia. Quindi ora intanto pensiamo alla parte di domani e poi dopo domani sera, una volta finita la partita, penseremo a quelle martedì dove ci saranno, credo, delle rotazioni. Però l'importante è concentrarsi domani sulla partita. Su quelle domani oggi valuterò le condizioni di Chiesa e Vlaovic, però stanno tutti bene, il reparto d'attacco, sia Milic che sta molto bene, Ken lo stesso che sta molto bene, Ildiz domani andrà a giocare con la Next Gen e Wisen da ora in avanti sarà in pianta stabile con noi, visto che Aleksandr sarà fuori per un po' di tempo. Giorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport, è stata la prima settimana senza Champions. Come l'avete vissuta e se sei accordo con qualche tuo collega che pensa che il vantaggio per chi non la fa potrebbe essere di 5-6 punti a fine campionato? Io non so come restare il vantaggio o lo svantaggio, perché dipende da che punti di vista uno la vede. Noi bisogna pensare che l'anno prossimo la Juventus dovrà giocare in Champions, perché credo che sia un valore aggiunto a livello tecnico e a livello economico per la società. Su questo ci dobbiamo impegnare. Abbiamo la possibilità di entrare nelle prime quattro, non sarà semplice perché ritengo, come dico sempre, che Inter-Mila e Napoli sicuramente sono al di sopra delle altre squadre, quindi sarà molto difficile. Quindi bisogna fare un passetto alla volta, con un grande equilibrio, senza avere grandi sbalzi di umore sia quando vinciamo che sia quando arriverà il momento che ci sarà un pareggio, una sconfitta, bisogna rimanere in equilibrio perché l'obiettivo finale è il 26 maggio. Buongiorno, Ministro Marco Benditti, signori di Mecalcio News. In passato le ho chiesto quando le partite della Juventus erano alternanti tra belle prestazioni e prestazioni meno convincenti. Quest'anno sembra che la Juventus abbia trovato un certo livellamento. Adesso non so se lei per scaramanzia magari non vuol dire niente, ma si sente dentro che la famosa strada è forse quella giusta, considerando i risultati. che stanno dando una certa consistenza. Grazie. La strada sarà giusta se arriveremo in fondo e avremo ottenuto l'obiettivo. Perché altrimenti se ne entriamo nelle prime quattro, diciamo, come minimo obiettivo non avremmo fatto un ottimo lavoro. Poi dopo che la squadra sia una squadra giovane, che è una squadra diciamo come un'esperienza, non giovane, come un'esperienza di altre, che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, abbiamo il tempo per farlo durante la settimana, questo è un altro discorso. Però ci saranno dei momenti in cui ci saranno delle partite, chiamiamole, meno belle, dove comunque bisogna fare lo stesso risultato. Perché ci saranno partite molto più equilibrate, dove il dettaglio farà la differenza, e su questo bisognerà essere molto bravi. Ciao, buongiorno, signor Nerozzi, Corriere della Sera. Senti, domanda da un milione di euro. Vado a memoria, amichevole con l'Atalanta, il primo tempo con l'Udinese, l'inizio l'altro giorno con la Lazio. Ti chiedo, cercate o avete l'idea di fare qualcosa di nuovo rispetto all'anno scorso come idea di gioco? Com'è o dipende soltanto, secondo te, dalla ritrovata condizione di alcuni giocatori? Chiesa, tu ne parli spesso. Grazie. Come ho detto diverse volte, è una questione della conformazione della rosa. Avremo perso sicuramente quest'anno in esperienza, ma avremo acquistato sicuramente l'entusiasmo, dinamismo di tutti i giocatori. Ecco, quindi bisogna essere contenti, bisogna lavorare in questo senso, continuare. Bisogna sapere che bisogna correre più degli altri, bisogna andare molto forte, perché poi soprattutto bisogna andare a cercare quei risultati che fanno sì che la squadra cresca in autostima e soprattutto il fatto di cercare di consolidarsi nelle prime quattro posizioni. E quindi ecco perché tutta questa euforia, tutto questo entusiasmo che c'è in giro bisogna tenerlo a bada perché altrimenti dopo ci facciamo del male. e quindi bisogna stare molto calmi. Pensiamo alla partita di domani, che è una partita complicata e difficile e soprattutto bisogna affrontarla nel migliore dei modi, perché la troppa positività delle cose abbassa l'energia e su questo noi bisogna lavorarci. In Coragallo Mediapas, un buongiorno mister. Voglio chiedere se gli ultimi eventi hanno cambiato la posizione di alcuni giovani su tutti i miei retti e fagioli, se è giusto responsabilizzarli per aumentarne le proprie conoscenze o se è meglio invece non caricarli di troppe responsabilità visto anche la situazione di Pogba? La responsabilità è di tutti, dei più giovani e dei meno giovani. Quando si gioca alla Juventus bisogna crescere più in fretta, sapendo comunque, noi dobbiamo sapere che comunque è una cosa fisiologica, bisogna aspettarci degli errori di inesperienza da parte dei ragazzi più giovani. Fortunatamente abbiamo anche un gruppo di giocatori più esperti che bilancia la cosa. però miretti, fagioli, cambiaso, anche se è nuovo, healing, gatti, perché non scordiamo che i gatti l'anno scorso era il primo anno dell'evento, stanno crescendo. Bisogna crescere piano piano e soprattutto bisogna avere un obiettivo che è quello del risultato finale attraverso le prestazioni, però bisogna averlo ben chiaro. E questa è una fase sicuramente di crescita. Buongiorno, mister Alberto Maro, il messaggero Juventus News 24. Le chiedo, dal suo punto di vista, qual è stato l'impatto e cosa ha portato Magnanelli qui alla Juve e quali sono le sue richieste, se può dircelo. Grazie. Francesco è un ragazzo che è molto bravo, ripeto, l'ho avuto al tempo del Sassuolo, ma per quanto riguarda lo staff, è uno staff, direi, tra quelli che sono con me da 18 anni, poi in questo periodo è passato anche Paolo Bianco l'anno scorso, Padoini due anni fa è stato inserito. Tra l'altro io sono molto contento di tutto lo staff e tra l'altro mi piace scegliere quelli molto bravi e soprattutto sono ragazzi giovani che hanno la possibilità di lavorare alla Juventus e un domani decidessero, come ha scelto Paolo Bianco l'anno scorso, di intraprendere la carriera, di riprendere la carriera d'allenatore. Io sono solamente che contento e quindi sono, anzi, per me sarebbe un orgoglio sapere che tanti di quelli che hanno lavorato con me, qualcuno che ha lavorato con me, a parte il gruppo storico, che ormai abbiamo una certa età, possono fare carriera d'allenatore. Ecco, quindi sono molto contento di tutti, di tutti quelli che lavorano all'interno della continenza, perché poi non scordiamo che ci sono i preparatori, ci sono i mercenalisti. Diciamo che c'è un buon gruppo di lavoro e soprattutto c'è un buon spirito all'interno della continenza, però questo non deve, come ho detto prima, non bisogna pensare che le quattro partite giocate abbiano già risolto tutti i problemi, perché gli obiettivi si raggiungono a fine stagione. Bisogna ritornare alla normalità che fa parte del DNA della Juventus e qual è quella di cercare di vincere più partite possibili per arrivare in fondo all'obiettivo. Quindi domani ne abbiamo una, poi giocata quella va messa da una parte perché poi martedì ce ne sarà un'altra. Salve mister, Odrino La Stampa. Ecco, ma lei prima ha parlato di risultati che ci servono per crescere in autostima, ha parlato anche di rischio di troppa euforia. A proposito di questo volevo chiederle, domani sostanzialmente la Juventus, giocando in anticipo rispetto all'Inter, può passare una notte anche in vetta la classifica? Ecco, questo quindi è uno stimolo o paradossalmente può essere un pericolo per quella troppa euforia che lei denunciava? Grazie. È uno stimolo. Noi, quello che ho detto sempre, che lo dico sempre ragazzi, noi bisogna desiderare il fatto di poter entrare nelle prime quattro, il fatto di vincere la partita domani. Le cose vanno desiderate, perché quelle cose desiderate, diciamo, valgono di più e soprattutto ti danno uno stimolo in più. Domani abbiamo la partita che è quella col Sassuolo e soprattutto ci consinterebbe di prendere tre punti, un punto, quello che sarà, che ci avvicinerebbe alla quota quella che sarà quella per entrare nella Champions. Però bisogna fare un passetto alla volta. I campionati non si vincono e non si perdono in una partita. Non si perde la Champions e non si entra in Champions in una partita, perché mancano ancora 34 partite, se non sbaglio, quindi ci vuole molta pazienza, bisogna pensare a lavorare e cercare di lavorare bene. Buongiorno Massimo, Stefano Salandini, Tutto Sport. Volevo completare una cosa prima su Magnanelli, tu hai parlato dello staff, ma lui in specifico cosa vi ha portato? E poi un'altra cosa, una curiosità, tu nell'allenamento dell'altra mattina hai provato Fagioli davanti alla difesa. Può essere un'alternativa a Locatelli nel caso in cui, oppure cambia proprio modulo con Fagioli lì? Grazie. Nicolò è un giocatore che può giocare anche davanti alla difesa, è normale che ci va provato, riprovato, a piedi e tecnica per giocare davanti alla difesa. Ora, come ho detto, nel lontano 2017, se non sbaglio, credo, o 18, mi ricordo, che giocò la prima partita contro il Real Madrid in America, 2017, ho una buona memoria, e dissi che comunque era una mezzala di regia, quindi, e così continua a essere, è normale che, nel corso degli anni, potrà diventare uno da giocare davanti alla difesa. Per quanto riguarda Francesco, Francesco è andato a sostituire Paolo Bianco, che insieme a Padovin sono operativi sul campo e quindi ci dà una mano perché poi dopo lo staff ognuno ha le sue mansioni e tutti portano il loro lavoro all'interno di quello che è la preparazione alla partita. Mister, buongiorno, Magdi Abouabia Rai, però, forse sono un po' gnocco io, però, tutti stanno bene, lo staff funziona affiatato, l'attacco rende, i numeri di Chiesa e Vlaovic parlando da soli, non c'è una squadra ritoriale nel senso che tutti sono pronti a dare il proprio contributo, quindi, è una situazione idilliaca, ma lei ha paura che si voglia un po' troppo alto, che lo studiamo, vuol dire che la squadra non è ancora pronta e matura per gestire una corsa di vertice o comunque per mostrare la propria forza su tutti i campi? No, non ho detto assolutamente questo, perché la forza di una squadra, di una società, è quella di avere equilibrio, perché i risultati si ottengono, secondo il mio modesto parere, con l'equilibrio e dove regna l'equilibrio è più facile e ottenere risultati. Come ho sempre detto, un risultato, una vittoria, non ci deve spostare, perché siamo solamente alla quarta partita, domani abbiamo la quinta, perché domani, il giorno che ci sarà un pareggio o ci sarà una sconfitta che nell'arco un campionato ci sta, non è che crolla tutto, bisogna continuare a lavorare, ripeto, ci sono squadre più attrezzate alla Juventus e quindi non bisogna combattere con queste squadre, lavorando con entusiasmo, con voglia, con determinazione, venendo tutti i giorni dal campo cercando di migliorare e poi in fondo all'anno se saremo nelle prime quattro o quarti o terzi o secondi o primi, questo poi dopo lo vedremo, allora dopo di lì vedremo quanto potrà essere cresciuta la squadra. Una cosa è certa, per come è stata strutturata e come è strutturata la squadra e vista l'età questa è una squadra comunque che avrà sicuramente un futuro, perché ci sono tanti italiani dentro, giocatori giovani, il più anziano credo che sia Danilo che abbia 33 anni, 32-33, quindi ha un futuro e quindi questo è già un risultato importante. Poi dopo se quest'anno dovessimo arrivare nelle prime quattro con la Juventus che ha fatto un cambio generazionale ciclico che è diciamo normale in tutte le squadre, una squadra che vince nove scudetti, una società che vince nove scudetti, gioca a due finali di Champions, quattro, cinque Coppe Italia, tre, quattro Supercoppe, Supercoppe, va bene, rischia come è successo ad altre squadre di rimanere fuori dalla Champions, e questo la Juventus momentaneamente visto che da quando sono tornato io sono rimasto credo sette giocatori, sei giocatori, la Juventus momentaneamente non è mai stata fuori dalla Champions perché l'anno scorso la Juventus è arrivata terza e quindi questo è un risultato con una squadra che quest'anno è stata in giovanita sono partiti giocatori di grande esperienza e di grande tecnica da Di Maria Paredes Bonucci Quadrado con Pobba che purtroppo momentaneamente c'è questa situazione quindi è una squadra che ha un futuro se quest'anno dovessimo arrivare facciamo tutto il possibile per arrivarci nelle prime quattro la Juventus l'anno prossimo come società avrà un introito credo visto che riparte il trienne Champions con più introiti quindi noi daremo una mano anche alla società sotto questo punto di vista e continuare il suo percorso di crescere una squadra all'interno della Champions dove i giocatori faranno più esperienze e dove cresceranno io credo che la società Juventus ha una rosa che per i prossimi anni potrà togliersi le soddisfazioni indipendente poi dal mercato che verrà fatto e quindi su questo però quest'anno è molto importante ecco perché non bisogna volare molto in alto bisogna mantenere copiati per terra che a me può volare in alto non mi piace molto mi piace stare copiati per terra e camminare e questa è la cosa più importante Antonio Paolino Radio Bianconera ti riporto un po' al sassuolo con una domanda su Berardi le caratteristiche dei Berardi avrebbero fatto comodo alla Juventus e ti chiedo se questa è stata a un certo punto per come si sono messe le cose è stata eventualmente una tua esplicita richiesta quella di averla alla Juventus ma no assolutamente quest'estate il mercato che come sapete c'è il direttore Giunto e il direttore Manna che lo seguivano c'è stata varie trattative però direi alla fine abbiamo deciso di rimanere con questo gruppo di giocatori e con questo lavorare quindi Berardi speriamo che domani non ripeta le prestazioni di solito che fa quando gioca contro la Juventus e noi bisognerà essere molto bravi a limitarlo buongiorno mister Nicola Balice calciomercato.com e la stampa in settimana c'è stata la visita anche di Spalletti uno dei giocatori che può puntare all'azzurro è sicuramente Ken ne ha parlato lui stesso ma ha bisogno di minutaggio crede che troverà lo spazio necessario per entrare nel giro azzurro e se pensa anche che i vari gatti Fagioli Cambiaso siano pronti per diventare dei punti fermi della Nazionale grazie Innanzitutto la visita l'altro giorno di Spalletti il GT della Nazionale ha fatto molto piacere perché comunque noi siamo a disposizione per mettere i giocatori che il GT convocherà nelle migliori condizioni e noi lavoriamo come Juventus per cercare di mettere di dare più giocatori possibili alla Nazionale è normale che in ottica nazionale abbiamo dei potenziali giocatori che abbiamo momentaneamente sono Chiese e Locatelli nell'ultima convocazione però ci sono altri giocatori che se dono la prossima o fra due convocazioni potranno far parte della Nazionale sicuramente noi ci impegniamo per la Juventus e anche per la Nazionale per dare tanti giocatori alla Nazionale che è un patrimonio del calcio italiano Buongiorno Minister Filippo Monsignor Corriere dello Sport le chiedo di McKennie come sta se toccherà ancora lui o UEA dal titolare domani grazie McKennie sta bene ha preso un colpo l'altro giorno in allenamento però sta bene quindi poi oggi valuterò però UEA è un buon cambio si sta inserendo bene è un giocatore che è arrivato diciamo da tre mesi neanche nel campionato italiano e quindi deve conoscere però direi sono molto contento il ragazzo Un'ultima domanda Sì Mister Giovanni del Benessere Sport Italia nuovamente siccome è stata una settimana importante in Italia per lo sport per l'introduzione dello sport nella Costituzione da uomo navigato di calcio di sport volevo chiederle una sua opinione grazie A proposito ha fatto piacere questa domanda perché mi sono scritto non scrivo mai però mi sono scritto il fatto che la Repubblica comunque riconosce il valore educativo sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva sono molto contento tra l'altro io faccio parte da da diversi anni allenatore alleato sport e salute perché credo che i ragazzi giovani vanno educati nell'alimentazione nel fare sport i numeri i dati che ci sono in Italia rispetto a quelli che erano tanti anni fa sono notevolmente cambiati c'è molta più obesità tra i ragazzini e quindi vanno stimolati a fare sport lo sport ti dà regole ti dà disciplina e ti dà molta educazione e per far questo sono molto contento di questa introduzione nell'articolo 33 della Costituzione italiana perché comunque aiuterà a andare nelle scuole a educare le nuove generazioni che saranno il futuro dell'Italia grazie a tutti buona giornata a tutti grazie 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 a tutti